Allora, l'ultima volta vi avevo detto che avrei comprato Rabiot, e così è stato. Ma sapete qual è la cosa bella? Che è il titolare fisso. E vi dirò di più, se oggi riusciamo a qualificarci nella divisione 4, compro Alexandro. Noi abbiamo 7 punti, e mancano 3 partite, ci servono 6 per la promozione, quindi di queste 3 partite dovevo vincere almeno 2. La formazione, come potete vedere, è cambiato, cioè Rabiot titolare, vabbè. Berna l'ha messo 3 quartista, poi 2 punte all'ex patto perché è più veloce di P. Lo so, ho dovuto fare dei sacrifici per questo. Ho upgradato un po' tutti e poi ho sostituito Pinsoio con Buffon. Eh perché ragazzi, prendere un gol a tiro è un po' difficile per arrancare, però vi prometto che se dovessimo arrivare alla nona, quindi l'ultima partita che ci mancano 3 punti, metto Pinsoio in porta. Visto che dei scii e i rogani non sanno benissimo, io direi sì. E tocca a loro. Ci sborra. Thank you, lui. Vai. Mamma mia. Venivo se lo faccio. Bravo, ci sborra. Berna dal limite dell'aria. Può farcelo. Può farcelo. Vai, vai. Ah, comunque ho cambiato bye per Calabria. Ha detto ciao, ciao. No, è in chiudo. Vai sempre a vuoto in chiudo, fai schifo. Il Saitama, One Punch Man. Un'azione, un'azione. Guarda, guarda. Ve lo faccio vedere dopo. Ve lo faccio. Oggi, in questo episodio, c'è anche il replay. No. Per Cheese. No, non ci credo. Cheese. È il tuo. È il tuo Cheese. No. Bello Cheese. Mamma mia. Per patto. Patto per Bern. Bern per... Oh, anzi. Vai. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Recupero di Cheese. Poi, tutta l'azione. Poi Medda per... Per Chiesa, Chiesa. Vabbè, Chiesa. Siamo tutti fede sessuali. Mi sembra... Cioè... C'è qualcuno che non è fede sessuali qui? Non mi sembra. Poi, vabbè, Medda. Il Saitama. Doppieto di Saitama. Che ci porta in avanti. Oh, oh. Mamma mia. Tripleta di Medda. Io esplodevo. Chiesa. Cross all'emmezzo. Oh, oh. No. No. Guarda come ho volato, Medda. No. Eh. Ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Ho ancora due partite. Dovamo vincere entrambi e mi qualificherò. Andrea del 1980? Ma dicca le sue cazzatine sulla scienza. Ma perché deve stare qui a rompere? C'è il suo no. Il mio sì. Il suo no. Il mio sì. Però calcio con la F. Il bel gioco. Ok. Bello il fuori gioco. Mamma mia rugrani. Di lì di no. Ma che era quel passaggio? Era per Medda. È ovvio. È ovvio. C'è. 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 Torri Eccolo E sono costretto a mettere Inchiulio Perché sennò pinsoio Per avere quel punteggio lì Devo mettere Inchiulio Sennò con l'intesa mi va 70 Quindi Pinso 69 Ci porterà Salvezza Oh Inchiulio Mamma mia Io so sbagliato Pi Decidio Inchiulio Ma che fai di tacco? Oh no Inchiulio lo mancava Chi lo mancava Rabbio Rabbio Sì A me lo tu Ovviamente non c'è l'animazione Perché non ha mai fatto un go Rabbio in vita sua Quindi Non c'è l'animazione Ma Questo è l'esultanza di Rabbio Che non esiste Perché Mamma Guarda 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 La halma olimpica La halma olimpica Porco Inchiulio Uno contro uno Guarda com'è Inchiulio Ma Inchiulio Fai schifo Guardalo Inchiulio Inutile No Inchiulio Mamma mia Inchiulio Sei inutile L'unico difensore Che anche se sta davanti Davanti all'attaccante Non riesce a me Non riesce ad anticiparlo Alma Alma Dovevo salvarci Notta la salvezza La salvezza Metta Metta Errabio Metta Errabio No Mamma mia Rugani Cheese Cheesebor Per Berna Mamma Guarda Che passaggio Di Cheesebor Piso Non ci credo E' finita Rompi 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 La gamba Rompi Di tutto La salvezza La grazia Pinso Non mi ne frega No no Ormai Pinso Titolare No no Pinso Titolare